Ok, beh, camera lucida, usiamola per farci un ritratto Prego, prego, vieni, vieni nel mio atelier Buonvenuto Grazie 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 mille Francescina Sei pronto a restare impresso nella storia? Non vedevo l'ora Assumi pure la posa che più perverisci ma poi mantienila per i prossimi 45 minuti E a cosa serve quello strumento? A ispirarmi Mai copiare Ho già avuto un'esperienza simile sempre con lei Però non è riuscito a un gran risultato Sto guardando il tuo occhio che mi guarda fisso, imperterrito e mi inquieta la cosa Io comunque ho già un'anticipazione di quale sarà il problema di queste immagini Nel motivo per cui questa cosa non può funzionare che è tutto distorto Ma non ho i baffi? Cosa ho una fiamma in testa? Sei il coreano di Squid Game praticamente mettito da Teletubbies A questo punto vi chiedo quale di queste opere di Franciscina vi è piaciuta di più?